Vi siete presentati in eccellenza in maniera autoritaria, un risultato davvero tondo. Quanto avete lavorato nella preparazione per questo debutto, mister? Stiamo lavorando dal 27 di luglio, è una squadra come sapete tutti, è una squadra giovane, è una squadra che è comunque a gamba, è una squadra che comunque abbiamo dovuto lavorare soprattutto anche a livello, essendo nuova, anche a livello tattico e atletico. Io sono contento della prestazione della squadra, diciamo che abbiamo fatto una grossa gara, abbiamo concesso poco e niente, però siamo la prima di campionato, siamo contenti di aver ottenuto questo risultato soprattutto in casa per i nostri tifosi, siamo tornati in eccellenza con un bel risultato, ma siamo solo all'inizio quindi c'è tanto da fare. Uno dei migliori è stato sicuramente Cellucci, quanto è importante il suo lavoro nel funzionamento delle dinamiche complessive del gioco d'attacco e della squadra? Cellucci è stato uno dei primi giocatori che abbiamo preso, quindi scelto dalla società, dal direttore sportivo e da me per un ritorno, eravamo tutti convinti, quindi è stato il nostro primo acquisto, quindi per noi è molto importante. Dopo questo debutto si può pensare ad altro, oltre che alla salvezza per il penne, mister? Noi dobbiamo vivere partite per partite e cercare di arrivare al prima possibile alla salvezza, questo è il nostro obiettivo, rimane questo è il nostro obiettivo e sarà per sempre, fino alla fine cambia il nostro obiettivo. Uscite purtroppo sconfitti da penne in maniera rovinosa, un primo tempo con qualche disattenzione nella ripresa, sembravate più organizzati, l'evento Spartiacque è stato il gol del 2-0 avversario? Ma oggi abbiamo sbagliato tutto, abbiamo perso tutti i duelli, la sconfitta è meritata. Andiamo avanti, sappiamo che è dura, molto dura, però c'è tanto da lavorare qui, perché c'è molto da lavorare, perché parecchi giovani, oggi eravamo 8-9 andri in campo, il penne è più pronto e ha meritato di vincere. Dove lavorerai maggiormente in settimana, mister? C'è qualcosa da curare nello specifico? No, quando c'è giunto di mezzo noi dobbiamo per forza pedalare, perché poi la migliore medicina è andare in campo e fare una bella settimana, perché c'è una partita molto difficile domenica con il Montorio in casa. Che campionato dobbiamo aspettarci dallo spoltore, mister? Con tanta sofferenza, perché la squadra è giovane, andremo ad aggiustare qualche cosa in settimana, perché questo è normale, perché così diventa dura, però abbiamo una società compatta e pronta a spendere. Grazie a tutti.